Le gambe si cambiano con le rote, perché così che si guadagna tempo, perché così si poi risparmia fatica. Mi garberà a sapere però in quale magazzino ritroverò poi tutto questo guadagno. Il tempo non è mai troppo e resterà poino e il risparmia fatica mi avrà fruttato un danno.